Pronto alla nuova sfida, pronto a mettersi in gioco per contribuire alla risalita dell'Allianz Pallacanestro Trieste. L'americano Deron Washington, a recente acquisto della società presieduta da Mario Ghiacci, si è presentato oggi alla città. 34 anni, grande atleta, ruolo alla piccola ma capace di rendersi utile in ogni zona del parquet. Il ragazzo è pronto all'impegno che lo attende, carico di sano ottimismo. Beh, io sono qui per questa seconda metà della stagione, per dare il mio aiuto, la mia esperienza, cercare di migliorare la situazione in classifica, che sono sicuro se tutti ci aiutiamo riusciremo a risollevarla. Washington è reduce da un infortunio alla spalla, maturato a marzo, quando indossava la divisa della Reier Venezia in occasione della partita contro Bologna. Dopo le cure il ragazzo si sente pronto a riprendere, dichiarandosi vicino al totale recupero. Sento di essere vicino al 100% della forma, dovrò prepararmi al meglio, ma sono pronto per partire. Un passaggio anche sulla città di Trieste e le sensazioni di questo nuovo ambiente. Chris Wright mi ha parlato della città, la trovo molto bella e prossimamente mi piacerebbe poterla visitare, assieme alla mia famiglia che mi raggiungerà qui. Infine, un messaggio ai tifosi. Non vedo l'ora di giocare per farvi divertire, per farvi vedere chi sono e speriamo di dare spettacolo. Grazie.